È l'ultimo pastore della Maiella e vive in una grotta a 1800 metri d'altezza con 100 capre e 30 pecore in località Piana delle Case a Fara San Martino in Abruzzo. Si chiama Domenico di Falco a 66 anni e scende a valle una volta a settimana per portare il formaggio a sua moglie che si occupa di venderlo. Ma è il tempo di riposare qualche ora e deve ripartire perché i lupi in montagna sono sempre in agguato e i cani pastore spesso non bastano per mantenerli lontani dal gregge. Per arrivare alla sua grotta sull'alto piano di Piana delle Case un buon camminatore impiega non meno di tre ore. Da Fara San Martino si passa attraverso le mastodontiche gole e ci si incammina verso un sentiero sassoso in direzione Monte Amaro. Scorci di paesaggio mozzafiato accompagnano e rendono gradevole il percorso che, però, resta molto faticoso. Si intuisce di essere arrivati quando l'erbetta sostituisce i sassi e l'abbaiare dei cani pastore consiglia di non avvicinarsi troppo al gregge. Domenico è persona schietta e conosciuto da tanti escursionisti che hanno fatto della sua grotta una tappa a cult. Vive portando al pascolo le sue capre, producendo latte e formaggio da maggio a settembre, cioè fin quando la meve lo permette. Poi deve scendere a valle e aspettare la primavera successiva. Poi deve scendere la primavera successiva.